Un progetto nato quattro anni fa, abbiamo lavorato questi quattro anni costantemente senza ancora avere nulla di certo. Adesso che finalmente abbiamo raggiunto questo obiettivo, che secondo noi non è solo un obiettivo del Camaro, ma è un obiettivo per tutta la comunità, perché lo stadio viene utilizzato anche da altre società, ci stiamo mettendo sotto giusto per, nella prossima estate, alla fine dei campionati, di poter modificare completamente l'impianto. Quindi come tempi prevedete che non sarà possibile prima del prossimo anno? No, non è possibile perché ci sono i campionati in corso e quindi se non prima terminano i campionati non ci sarà la possibilità di fare i lavori, anche per sostituire sia il manto che fare un restyling completamente a quello che sono gli spogliatoi e la tribuna.